Abbiamo una, non conosco la parola, una caschetta in francese. Fiero di essere francese. Fiero di essere francese. È un po' simile a quella di Trump, non è vero? Sì. Di Donald Trump, il cappello. C'è di poi le altre cose, quali sono? Abbiamo un orologio? Un orologio, abbiamo una tazza. Cosa c'è scritto nella tazza? Tazza c'è. Al nome del popolo, col nome del popolo, è il simbolo della campagna. È lo slogan di Manuela Bay. A nome del popolo. A nome del popolo. E poi altre cose, vedo lì un cuscino. Sì, un cuscino che è molto conosciuto nel mondo, è un voto marine. Abbiamo anche uno per il mouse. Ah, un pad. Un pad. C'è una vera sfida, che dice? C'è una vera sfida che dice, il marine è presidente. C'è un cuscino blu, bianco e rosso, per il tricolore della bandiera francese. Questo tricolore, che ricordiamolo, riprende il simbolo dell'M6, no? Sì, un po' è il simbolo storico della fiamma. Oggi il simbolo dell'azienda nazionale è piuttosto così. Ah, che è diverso rispetto a questo? È l'ansamo. È l'vecchio. Ok.